Siamo presso la sala congressi di Villa Cirillo del comune di Bacoli e ora qui il sindaco della città di Bacoli, il dottor Giosi Gerardo della Ragione, per aver conferito la memoria di questa sala al dottore Edoardo Scognamindio. Sì, ritengo che oggi sia una giornata particolarmente importante per la città, nell'anno del centenario perché questa terra ricorda bene i suoi fasti millenari, romani, greci, borbonici, però non ricorda se stesso, non ricorda che ha fatto grande il territorio. Allora, riuscire a celebrare chi ha dato tanto a questa comunità da dipendente comunale, perché Edoardo era un dipendente, era un elettricista, sapere che un elettricista, Bacoli, dopo l'oraio di lavoro, studiava, si acculturava, si immergeva e ci ha aiutato a scoprire parte del nostro patrimonio culturale, per me sindaco oggi motivo di grande vanto e significa che questa città ha avuto tanti donne e uomini che hanno fatto grande il territorio e il nostro compito è riuscire oggi a ricordare e a valorizzare per fare in modo che i più giovani, oggi siamo nella sala congressi, giù c'è vuota penso la biblioteca comunale di Bacoli, dove ci sono giovani che devono interrogarsi su chi ha dato tanto a questa città, devono riprendere quella stessa passione e devono iniettarla sul territorio. Io ci credo e ringrazio la famiglia, il console e tutti coloro che sono intervenuti per ricordare la memoria di un grande uomo che è stato archeologo, che è stato amante della cultura, ma innanzitutto è stato dipendente comunale. Ora la parola al console del Benina Napoli, dottor Giuseppe Gambardella, ospite d'onore. Qual è il suo ricordo in merito al dottor Edoardo Scognamiglio? Beh innanzitutto ringrazio l'amministrazione comunale che mi ha invitato a questa splendida manifestazione per ricordare una splendida persona, il dottor Edoardo Scognamiglio, che io ho avuto il piacere di conoscere negli anni 90-92 quando ho ricoperto la carica di assessore qua a Bacoli. Un uomo semplice, un uomo di poche parole ma concreto. In tante occasioni ho avuto il piacere di conoscerlo ed si è dimostrato sempre disponibile verso tutti. Io oggi ringrazio comunque tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questo sogno, quindi l'amministrazione comunale di Bacoli, una persona del dottor Giuseppe della Ragione e della sua amministrazione, dei responsabili della biblioteca, il dottor Franco Napolitano, il dottor Elio Guardacione ma soprattutto il dottor Ciro Amoruso che dopo anni è riuscito a coronare questo sogno non solo nei confronti del nostro amato Edoardo Scognamiglio ma soprattutto della sua famiglia. Grazie ancora di vero cuore, ringrazio anche il nostro presidente Franco Marasco che in tante occasioni ci ha sostenuto e ancora una volta stamattina ha omaggiato due targhe al Comune di Bacoli e al Consolato per questa bellissima iniziativa e soprattutto per questa splendida persona. Grazie.